sento sempre di capire qual è il pensiero che c'è dietro, perché ha bisogno di quelle parole e non di altre. E cerco di fare in modo che quel pensiero lì mi nasca in quel momento. Se quel pensiero nasce in quel momento, grazie a ciò che mi circonda, non a ciò che penso io, grazie a quello che c'è intorno a me, prendendo dall'esterno, allora la mia reazione sarà parlare. Cioè in questo momento sto parlando perché tu mi hai fatto una domanda. Non ti avrei detto queste cose prima. Se tu non mi avessi fatto questa domanda e non mi avessi suscitato questo pensiero, non starei dicendoti queste cose. E per noi è così. Quindi è una specie, la grande difficoltà, tra virgolette, soprattutto all'inizio, è quello di concepire per esempio la concentrazione in apertura e non in chiusura. Noi molto spesso pensiamo alla concentrazione come qualcosa che ci astrae dal resto del mondo. Per noi è esattamente il contrario. Tanto è vero che preferisco la parola attenzione. Cioè metto l'attenzione su qualche cosa e so esattamente cosa sto facendo. Se io mi dico sto concentrandomi, in realtà non sto facendo nulla. Ma se io sto dicendo per esempio sto rilassando un piede, perché la tensione fisica di questo momento si sta annidando lì, ecco io so che sto facendo una cosa con un pezzo del mio corpo. Ok. Questa cosa qui è molto importante, perché per un attore è una cosa fondamentale riuscire ad essere specifico e semplice, perché della complessità si occupa la storia. Un attore sa magari che ciò che sta raccontando può essere un pochino più complesso, più rotondo, però la storia non è il personaggio. E molto spesso uno dei problemi che abbiamo è confondere i piani, no? Quindi accollarci o poi metterci sulle spalle la storia come se noi fossimo la storia. Non è vero. La vita di Pierfrancesco Favino non è Pierfrancesco Favino. Pierfrancesco Favino è vivo, fortunatamente, è un po' a lungo, però nel frattempo la vita gli pone sempre delle sorprese e va magari non di pari passo a quello che Pierfrancesco Favino vorrebbe o che si immagina. Mentre parlavi ragionavo sul fatto che i grandi attori come te avete questa capacità a volte di trasmettere sembra che non stiate facendo assolutamente un cazzo, no? Cioè sei fermo, immobile, la macchina ti riprende e noi spettatori abbiamo un'emozione, sentiamo qualcosa, ma tu apparentemente sei immobile, no? È solo un non fare, no? Però il paradosso è che quel non fare ti trasmette il prima, il dopo di quel personaggio. È un po' come quando, ieri stavo guardando cos'era, ah, quello con Maddemon e Christian Bale, Le Mans 66, non l'ho ancora finito di guardare, no? Da storia... Solo spoiler. Ok, Ford, Ferrari, quella roba lì. E c'è una delle scene iniziali dove c'è Christian Bale che fa tipo il meccanico e subito, in tre secondi, tu hai già visto la sua vita dei vent'anni precedenti, della sua situazione attuale, subito in uno sguardo e ti chiedi ma come cazzo fai, come fai tu a dare subito quel tipo di emozione pur sembrando che sei fermo lì, non stai facendo niente? E questo per me è un grande mistero dei grandi attori. Io penso che in realtà, come si dice a Roma, andiamo un po' a vela, nel senso che in realtà il lavoro lo stai facendo tu. Cioè, io ti sto dicendo che io sono il principe di Danimarca. Diciamo, va. Se io entro e in tutti i modi ti nego la possibilità di credere che io sia il principe di Danimarca, mi sto dando la zappa sui piedi. Ma nel momento in cui si apre una porta, uno entra e fa tu, tu, il principe di Danimarca, entro io, tu, spettatore, dentro di te hai deciso che io sono il principe di Danimarca. Giusto. E se tu vedi mia madre che dice è diventato pazzo e dietro la porta ci sto io così, tu inizia ad avere il dubbio che io sia pazzo. Ma io non sto facendo il pazzo, io sto così. Giusto, giusto. Ma la storia ti sta suggerendo che io sia pazzo. Quando io dicevo, infatti, prima noi attori dobbiamo distinguere. Molto spesso ci pensiamo di dover fare il ruolo che in realtà fa lo spettatore. Lo spettatore è porta nella vicenda il 50-60% della sua immaginazione. Se io oggi ti dico in una collina assolata c'è una strada bianca che porta ad una casa in questo momento io so che tutti quelli che ci stanno ascoltando si sono immaginati la loro collina, la loro strada e quella casa che magari fa parte della loro esperienza o magari non hanno neanche mai vista ma se la stanno inventando in questo momento. Questo lavoro qui lo state facendo voi, non lo sto facendo io. Se poi si dice dentro c'è un uomo biondo alto con gli occhi azzurri entri e c'è Pierfrancesco Bavino qualcosa nella storia non è una storia. È andato a storia. Se invece c'è scritto che c'è uno peloso nero ci sto io dentro si è giusto la storia va in quella direzione allora questa cosa qui va presa sempre in considerazione noi molto spesso abbiamo la tendenza a dire lo devo riempire io questo vuoto invece no lo fa lo spettatore lo fa la storia lo fa il regista perché il regista se mi inquadra in un modo piuttosto che in un altro ha la possibilità di dare a te percettivamente delle sensazioni piuttosto che delle altre